L'omaggio degli italiani al presidente Carlo Azzeglio Ciampi Che cosa ha rappresentato Ciampi? Un ottimo presidente Sono contento di essere qui Che ha rappresentato l'Italia per me Per me come l'avevo io Ma è perché penso sia stato un presidente degno della sua altezza E poi è sempre stata una persona molto coerente E riconoscente anche verso le istituzioni Per quello credo di fargli un bel presente in questo momento Noi eravamo a Roma in gita e quando abbiamo saputo questa notizia Devo dire che uno dei nostri pensieri è stato quello di venire a salutarlo Perché è stato un presidente molto amato Perché è stato un uomo per bene E a noi ci servono le persone per bene Grazie E lei perché qui? Per rendere onore a un grande presidente Perché come dice mia mamma è stata davvero una persona per bene Perché mi è sempre piaciuto e simpatico Era simpatico Ecco perché Mi è stato simpatico dal primo giorno Mi ricordo del 2 giugno 10 anni fa Che io disse che andai a farmi passeggiato Perché avevo litigato con mio marito E arrivai a via 20 settembre Con 60 Scesi e andai Perché c'è tutte queste persone? Perché deve venire il presidente? Sai lì? Lui salutava Io stavo proprio vicino Quando sono passato Non ho fatto tempo a dargli la mano Però è rimasto in simpatia Grazie 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 Grazie.